Il barista mi ha risposto allora a rigore per la Junquai Ma che domanda vogliamo vincere? Arturo sono... No Arturo sono il contino Ma dico che... Ma dico io per chi non si deve avere di fare informazione o una cosa seria Poi non lo si Parlate di un quadrato ma bene Non parlate dell'esercizio non esistente di metà Che è condizionato tutto il secondo tempo della barri Ma le informazioni non è reale o all'esternità Buongiorno 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.